Una cerimonia funebre lontana dai riflettori. Massimo Riservo hanno chiesto i familiari per l'addio a Cinzia Luisona, la donna uccisa Sanstino di Livenza, a colpi di bottiglia sulla testa dal marito Giuseppe Pitteri. Transenne protezione civile per allontanare fotografi e televisioni, il feretro di legno chiaro con un cuore di rose bianche e rosse è stato accolto dalla pioggia sul sagrato della chiesa parocchiale di Santo Stefano. Le figlie e altri parenti indossavano un fiocco rosso e altri ricami alla lotta contro i femminicidi. La tristezza ci caratterizzerà sempre il Vangelo, però dice che non è così, ha detto Don Alberto Arcicasa nell'Omelia. Cinzia è l'ennesima vittima del vuoto che si sta facendo sempre più strada nel cuore malato della nostra società. Il pensiero è andato poi a tutte le donne che sole, confuse, soffrono, schiacciate tra il fallimento di una storia e la speranza di un sogno da non perdere. Don Alberto ha evocato poi la misericordia anche per il marito di Cinzia. Nell'epigrafe accanto alla foto il messaggio delle figlie Greta e Noemi alla nostra mamma che è sempre stata il nostro unico fondamentale punto di riferimento in ogni nostra scelta. Ti ameremo sempre. Bandiere a mezz'asta, serande abbassate, nelle vetrine hanno affisso dei volantini. Noi siamo Cinzia. Nei comuni di Sanstino di Livenza e Pramaggiore, dove Cinzia lavorava, è stato proclamato il lutto cittadino. Massima adesione, attenzione da questo punto di vista da parte di tutti e questo testimone quanto questa tragedia abbia toccato un po' a tutti. Una nostra missione è quella di continuare su questa volontà di contrastare questa violenza di genere, però questa volta ci ha toccato molto da vicino. Ironia della sorte, dietro all'edificio del comune di Sanstino, a nemmeno 100 metri dal luogo dell'omicidio, ci sono due panchine rosse. No alla violenza sulle donne, c'è scritto con il numero antiviolenza, non è amore, chiama il 1522. Purtroppo Cinzia non ha fatto in tempo. Grazie a tutti.